o veniamo al giochino allora io vi nell'ordine è Isabella Sofì Eleonora Giovanni Elisabetta Marco Vale Vale Vania e Marco G il secondo l'ultimo Marco che è entrato che saluto allora aprite il microfono funziona così Isabella mi spara una parola a caso Sofì subito una parola a caso Eleonora conta fino a 10 e poi mi spara una parola a caso Giovanni conta fino a 10 e io provo a mettere insieme tutto questo guazzabuglio di cose vai Isabella cosa mi dici sei meno sei meno Calimero Calimero vai Sofì Candela 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 preparati Eleonora da quando inizio conta fino a 10 e poi inizi nell'ambito della disciplina del pubblico impiego il personale amministrativo è diviso in vari fasce in vari ruoli il personale poi è valutato secondo il procedimento della riforma Brunetta aspetta aspetta devo unire le parole riforma Brunetta in più fasce fasce di serie A fasce di serie B a cui corrispondono dei vantaggi stipendiali ovviamente gli ultimi i Calimero della situazione ottengono punteggi che comunque danno diritto a una parte del salario accessorio ma è ridotta rispetto agli altri Sofì che cosa aveva detto me lo sono dimenticato subito? Candela Candela il personale ad esempio potrebbe essere valutato anche in base alle procedure amministrative che ha svolto un esempio classico di un errore nella procedura amministrativa è quello di aver gestito l'appalto secondo la vecchia procedura dell'asta pubblica che si svolgeva attraverso la Candela Vergine oggi non è più possibile svolgere procedure non tramite le piattaforme telematiche vai Eleonora nullità tramite le piattaforme tecnologiche infatti la gestione di una procedura amministrativa attraverso la procedura della Candela Vergine che consisteva nell'attendere la spegnimento della Candela per individuare il miglior offerente oggi terminebbe la nullità del procedimento di affidamento delle procedure contrattuali e pertanto non consentirebbe né l'adozione del provvedimento di aggiudicazione che è il provvedimento amministrativo finale nella successiva fase di stipula sappiamo che la stipula nei contratti della pubblica amministrazione avviene in varie forme ma una norma prevedeva l'obbligo della stipula mediante la forma pubblica amministrativa e quindi il rogito da parte del segretario generale quando la procedura fosse quella dell'asta pubblica cioè oggi dell'odierna procedura aperta vai Elisabetta della odierna procedura aperta fra le procedure amministrative abbiamo detto abbiamo l'affidamento diretto la procedura aperta la procedura ristretta qualora l'amministrazione ad esempio voglia affidare dei servizi servizi di carattere veterinario l'amministrazione sono tenute alla tutela del territorio e anche alla tutela degli animali presenti sul territorio presentiamo ai canni randagi ai gatti randagi deve procedere mediante la procedura di appalto che per importi minori o per carattere d'urgenza può anche essere una procedura di affidamento diretto vai Marco pantuflage ovviamente il dirigente che procede all'affidamento del servizio pensiamo a una associazione o una società che gestisce il settore veterinario non potrà poi una volta terminato il servizio presso la propria amministrazione ricevere incarichi da parte del soggetto che è il risultato affidatario questo vale per un lasso di tempo che può variare da due a tre anni a seconda della regolamentazione che viene definito pantuflage o revolving doors cioè la misura di eliminazione del conflitto di interesse proprio finalizzata ad evitare il conflitto di interesse postumo cioè dopo che il dirigente ha terminato il proprio servizio vai vale vale la violazione di questa regola di pantuflage difficile da controllare da parte della pubblica amministrazione potrà portare ovviamente non a una responsabilità penale né a una responsabilità amministrativo contabile perché il dipendente non è più dipendente della pubblica amministrazione né a una responsabilità disciplinare o dirigenziale ma eventualmente al risarcimento del danno anche per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione basta mi fermo perché sono finiti i tre minuti e perché questo esercizio per un po mettermi in difficoltà mi piace questa cosa ma perché se provate a farlo prendendo una serie di parole ora anche via via che leggete e cercare di fare i collegamenti più strani possibili se si fanno anche in questo modo si riesce a collegare concetti che spesso nei libri ai me studiamo in modo compartimentato e questo aiuta anche nell'esposizione orale quando ci si trova davanti magari la domanda improvvisa a cui non si sa rispondere nel caso concreto quindi grazie per questa esercitazione e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti